Per il nostro giro intorno al mondo con i Liguri che vivono e lavorano fuori andiamo negli Stati Uniti oggi andiamo a Miami a salutare Roberto Loi. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora partiamo dalla sua storia per poi arrivare ovviamente all'argomento insomma di queste ultime ore con la rielezione di Trump ma soprattutto come diciamo è stata vissuta ed è vissuta lì dove vive lei. Intanto da quanto vive a Miami lei? Più o meno sono quasi cinque anni mi sono trasferito dall'Italia agli Stati Uniti. In Miami sono intorno ai tre quindi più o meno un po' di tempo. E di che cosa si occupa? Io sono un cuoco, lavoro in un ristorante italiano qua a Miami e da quando ero in Italia avrò un cuoco mi sono trasferito per questo motivo anche qui. E come si vive lì a Miami anche in relazione diciamo alla sua professione? Allora Miami è una città abbastanza frenetica anche se fra tutte le città americane è abbastanza calma e il cibo italiano è molto molto apprezzato qua all'estero qua a Miami e comunque al primo posto negli Stati Uniti come come tipologia di cucina etnica è l'italiano e la gente gli piace molto, lo apprezza. E senta da un punto di vista proprio di vita quotidiana com'è vivere lì a Miami? Allora è una città che dove c'è molto sole abbastanza umida però è sempre sempre soleggiata e solamente qualche volta al giorno più o meno gli arrivano dieci minuti di pioggia durante la stagione però in generale è sole caldo sempre maglietta manica corte. E beh insomma questo è già una cosa molto positiva per molti diciamo di noi. Sì decisamente. Senta ovviamente abbiamo visto anche nelle scorse settimane purtroppo insomma la tragedia che ha colpito anche la Florida. Credo che insomma Miami sia rimasta fortunatamente forse indenne del tutto no? Sì sì esattamente purtroppo sono arrivati questi due uragari uno dietro l'altro. Il nord e il sud della Florida sono state colpite abbastanza forte. Fortunatamente Miami si è salvata però però al nord soprattutto ha fatto un bel po' di problemi. Senta lei diceva io sono un cuoco che cosa c'è di diverso fra l'Italia e gli Stati Uniti in particolare lì insomma Miami dove lei si trova? Diceva la cucina italiana nel primo posto. Ma c'è più attenzione meno attenzione alle materie prime a diciamo un'autenticità anche della ricetta? C'è proprio voglia di scoprire anche che cosa c'è dietro un piatto come insomma sta accadendo in Italia oppure c'è qualcosa di diverso lì? Solitamente mi stupisco quando parlo ho l'opportunità di parlare con dei clienti americani o comunque stranieri sul quanto comunque sono sono informati sulla tradizione e sulle ricette italiane. Addirittura magari qualcuno mi chiede guanciale nella matriciana è guanciale o pancetta? Sarà una differenza? Sì 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 assolutamente apprezzano davvero tanto ma d'altro canto che è una cosa sia positiva che per me è più positiva per molti potrebbe essere negativa è che comunque se qualcosa è buono è buono sia che se ci si mette qualcosa di diverso molta gente l'apprezza lo stesso ad esempio non sono così radicali tradizionalisti come possiamo essere in Italia che è un bene o un male dipende sempre a volte vedi delle ricette un po' troppo cambiate dai però un po' troppo americane diventano un po' troppo americane troppo americanate sì vabbè però sì. Senta ma lei riesce a portare un po' di Genova nel ristorante dove lavora ovviamente ristorante italiano quindi le ricette sono di tutta Italia ma un po' del gusto l'igure del gusto genovese riesce a portarlo ogni tanto? Ci si prova sempre comunque comunque le mie radici sono sempre bene attaccate alla madre patria Genova ci si prova sempre sia dal fare un piatto ma anche magari dall'ordinare un prodotto guardo sempre nella nostra regione nella nostra città c'è ogni tanto riesce a mettere un po' di basilico un po' di pesto un po' di focaccia quella? Beh assolutamente basilico sia in decorazione che in salsa e la focaccia ci deve essere sempre dai Senta ovviamente ehm nelle ultime ore e qui arriviamo proprio alla cronaca c'è stata la vittoria di Donald Trump che ha stravinto proprio in Florida al discorso che ha fatto proprio eh lì ehm che cosa si dice eh come vive diciamo eh questa questa rielezione diciamo la gente comune che lei ha sentito sente in giro insomma? Beh senz'altro se se Donald Trump ha vinto vuol dire che molta gente lo supporta ovviamente 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 tra tra il mio cerchio di persone o le persone che conosco in generale eh sono sempre due schieramenti sia ha stravinto Trump dipende sempre dal su su che fascia comunque ha stravinto e sì ci sono sempre due schieramenti senza dover proprio entrare nel dettaglio no no ma certo certo io non posso votare per adesso non ancora però sì ci sono due schieramenti ben ben definiti diciamo diciamo che non c'è una via di mezzo alla fine dei conti o si è votato Trump o si è votato la Harris e ma si capiva lì in Florida che avrebbe stravinto? Che avesse stravinto? Cioè sì Trump sì diciamo che anche solo che propaganda e pubblicità o o girare in vedere in giro la classe o la scena americana della della casa o con la bandiera americana e la la bandierina di Trump davanti quella lì sì anche perché insomma è spugnato Miami quindi forse ci ha puntato ovviamente moltissimo senta eh Roberto che cos'è che le manca di più di Genova della Liguria dell'Italia? Beh come sempre a primo posto la mamma poi mi manca un sacco il vero basilico di Prat quello con le foglioline piccole quello con le foglioline piccine piccine sì 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 esatto proprio quello lì il gelato e la lanterna dai la lanterna è sempre un bel un bel panorama ma se rispetto al suo futuro lei lo vede lì negli Stati Uniti? Ma diciamo che il mio futuro con mia moglie lo potrei vedere ovunque si possa stare bene dai quindi alla fine dei conti basta basta stare bene però gli Stati Uniti la Florida sinceramente c'è caldo dai è caraibico è bello. E la vita costa molto lì? Diciamo che è tutto quanto in proporzione al a uno stipendio quindi diciamo che ci sono certe cose ad esempio prodotti italiani da da comprare da mangiare purtroppo vista l'importazione sono abbastanza cari però si riesce a a sopravvivere bene dai si vive bene molto bene. Allora Roberto io la ringrazio come sempre nella sua cortesia e disponibilità la lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che la ospita. Ok thank you so much and see you soon everyone bye 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 see you soon arrivederci a Roberto Roi da Miami Florida Stati Uniti